Finalmente Enrico Beruschi anche a Tele Galileo, buongiorno, per prima cosa, una cosa che forse non la domandano tutti, che segno zodiacale è? Vergine! Ancora? Di ritorno, pare che dopo tanti anni di matrimonio non esercitando più, praticamente potrei lanciare un appello, se vedete questo ragazzo un po' stempiato con la barba, è un ragazzo timido, ha bisogno di affetto e magari cambia segno. Può darsi, può darsi. Di scorpione ho paura, ieri ne ho trovato uno in albergo ma appunto un dito. Sì, e sua moglie che segno è? Uno che non va d'accordo con la Vergine, sagittario. Beh, è lo più bel segno di dirlo. La suggeriscono lo più bel segno di dirlo. Sì, naturalmente, chissà perché. Sono delle carogne, una roba, poveri ragazzi finiscono tra le mani di un sagittario proprio. Distrutti, distrutti. Io ero alto e biondo prima di sposarmi. Ecco, ecco, questo è tutto, con questo è tutto. Allora, il prossimo ritorno in televisione, che cosa ci sarà? Non è previsto per adesso ma dopo qualche anno comincia un po' a tornarmi la voglia di televisione. Ah, quindi è stato lei che non ha voluto? Oppure litigi? Sono quegli amori che finiscono perché non si sa. Non è mai successo. Un uomo era meraviglioso, baci, carezze, un po' meno baci, un po' meno carezze, un po'. Stasera esco da sola, vado al cinema con le amiche, io vado a giocare a bocce e poi dopo ci si accorge che non c'è più l'amore. Ma dopo qualche anno può tornare, no? Può tornare, specialmente dopo anni di lontananza. Sì. E' vero? Per tornare all'amore. Oppure ha dato fastidio a qualcuno? No, non credo. Troppo dagliente la lingua? Diciamo che no, che io sono un buono, però non sono uno molto tenero, ecco. Non si può farmi dire delle cose che non penso. E allora il comico è un po' pericoloso perché ha una faccia. Io ho una faccia e può servirmi per dire quello che voglio, ma certe volte non la so frenare, non riesco a essere impassibile di fronte a certe cose. Quindi qualcuno magari... C'è anche un'anima dietro per questo. Sotto questa barba batte un cuore. Ancora a lungo, speriamo. Speriamo. Comunque conosco dei bei professori che ha giusto, no? Sì. Me li tengo buoni. Grazie e al prossimo festival ci sarà, no? A questo punto ho visto delle cose così belle che non posso farne a meno. Ma saranno donne? Donne, aspetta, donne era una cosa, aspetta, eh. Eppure a me piacevano, mi ricordo più. Ah già, sono tornato vergine, sì. A me piacevano le donne. Sì, mi piacevano.